Primoz Roglic vince l'ottava tappa della Vuelta Espania e dà così inizio all'operazione remuntada. Un saluto a tutti gli appassionati di ciclismo e bentornati sul canale Il Ciclista Anonimo. Si è disputata l'ottava tappa della Vuelta con arrivo a Casorla, la classica tappa da Vuelta, salita finale breve di 5 km ma durissima, con pendenze improponibili, la solita rampa di garage al 17-20% di pendenza e ha vinto Primoz Roglic dopo un bel duello con Henrik Maas che sulle strade di casa va sempre forte. Terzo posto per Michelanda, poi appena dietro, quarto, un ottimo Antonio Tiberi. Una menzione speciale per Vergallito che è stato protagonista in fuga e poi ha tenuto duro, ha tenuto a botta nel finale, si è piazzato, si è hanno vaderato dodicesimo, quindi bella prestazione. Per questo ragazzo che è entrato nel mondo del ciclismo professionistico in modo particolare attraverso la Swift Academy. Dunque Roglic vince da inizio alla rimonta e deve far questo, deve attaccare praticamente in ogni tappa. La maglia rossa, Beno Conor che si ritrova lì davanti grazie ad una fuga a bidone, si è difeso Conor ragazzi, si è difeso grazie anche al supporto del suo compagno di squadra Felix Gall e ha perso 46 secondi, quasi tutti nel finale, sulla rampa finale è andato in crisi e ha perso la ruota anche del suo compagno di squadra che cercava di dargli una mano, però dai ha limitato i danni e rimane in testa. Quindi la classifica generale come si trasforma? O'Connor è sempre leader, Roglic è secondo a 3 minuti e 49, quindi tra 46 secondi di tempo più i 10 secondi di abbuono con la vittoria di tappa lo sloveno ha guadagnato 56 secondi e va a 3 minuti e 49. Terzo Mass a 4 minuti e 31, quarto il nostro Tiberi a 5 minuti e si trova anche in testa alla classifica dei giovani ed è in piena lotta per il podio. Poi Quintolanda sempre per il discorso classifica giovani, occhio a Van Etfeldt, Scalemos, Lipovic che saranno tutti avversari di Antonio Tiberi che però secondo me si è difeso alla grande in queste prime tappe di salita non proprio adatte alle sue caratteristiche perché non è un corridore esplosivo e sono curioso di vederlo più avanti nelle tappe di montagna che sulla carta dovrebbero essere più adatte alle sue caratteristiche. Guardando questa classifica qualcuno potrebbe chiedersi ma dov'è Joao Almeida? Che fine ha fatto Almeida? E ragazzi questa è la notizia del giorno, Joao Almeida è crollato, si è beccato 5 minuti nella tappa di oggi tutti presi sulla salita finale che era una salita breve e dunque Almeida è fuori dei giochi. Dopo Adam Yates la UE perde anche Almeida un disastro per la formazione emiratina. Forse Almeida e Yates sono stati spremuti troppo al Tour de France in appoggio a Pogacar che voleva vincere 800.000 tappe e hanno tirato come dei muli e forse adesso pagano il conto perché Yates e Almeida sono arrivati a questo punto sono arrivati un pochettino spompati in questo appuntamento, un appuntamento comunque importante. La prossima tappa, la prossima tappa, la nona tappa è un tappone di montagna. Ci sono tre salite di prima categoria, l'arrivo è in discesa, arrivo a Granada quindi ci sarà la discesa del finale, non si arriva in salita, l'ultima tappa prima del giorno di riposo, del primo giorno di riposo. E cosa farà Primos Roglic? Beh questa è una bella domanda ed è bella come questa vuelta perché con questa situazione di classifica Roglic dovrà attaccare in tutte le tappe e probabilmente non potrà limitarsi a fare l'attacco sull'ultima salita perché poi guadagna soltanto 40-50 secondi. Abbiamo visto che O'Connor, sì non è un fenomeno, però tiene duro con anche il supporto di Felix Gall che è un ottimo corridore e in classifica generale se non vado errato Gall è anche decimo quindi è rischioso portarselo sull'ultima salita, è rischioso guadagnare soltanto 40-50 secondi ogni tappa perché poi c'è il rischio che O'Connor arriva nell'ultima settimana con ancora due minuti di vantaggio e poi a quel punto l'australiano si difenderà alla morte, darà anche l'anima quindi forse per Roglic sarebbe meglio stroncarlo subito, farlo crollare subito magari già domani con un attacco a lunga gittata perché ragazzi 3 minuti e 49 di vantaggio non sono male oggi ha pagato, si è visto, è andato in difficoltà però abbiamo anche visto che O'Connor non è da solo e può contare sul supporto di un ottimo compagno di squadra mentre la Red Bull Boransgrove di Roglic per il momento non sta dimostrando di avere grandissime gambe quindi forse Roglic dovrà inventarsi un attacco da lontano o magari sperare semplicemente nel crollo di Ben O'Connor bene, termina qui questo video in cui vi ho presentato, vi ho raccontato i risultati dell'ottava tappa della Vuelta la notizia del giorno è sicuramente il crollo di Joao Almeida doveva crollare O'Connor invece ragazzi doveva crollare O'Connor invece è crollato il corridore che non ti aspetti Joao Almeida che era uno dei grandi favoriti di questa Vuelta ed era a pochi secondi da Roglic in classifica generale si trovava ad 8 secondi da Primoz Roglic bene, il video termina qui io come sempre vi invito a dire la vostra nei commenti se avete trovato il video interessante lasciate un bel like vi potete anche iscrivere al canale anzi l'iscrizione è fondamentale per supportarmi a me non resta che salutarvi e vi do appuntamento sempre qui sul canale del ciclista anonimo per altri contenuti come sempre dedicati al mondo del ciclismo ciao!